Buonasera a tutti ragazzi, sono Michele e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Oggi è la puntata numero 2 della serie Teccando, cioè la serie dove faccio le recensioni dei prodotti che mi arrivano da Amazon e sono prodotti prevalentemente tecnologici. Oggi abbiamo qui questi meravigliosi cinturini per la Xiaomi Mi Band 2, come vedete ce l'ho adesso in mano, l'ho recensita nel video di martedì scorso. Questi cinturini sono assolutamente identici all'originale, però vanno bene per le persone fantasiose, allegre e colorate che vogliono cambiare spesso il colore del loro cinturino. Come vedete aderiscono perfettamente alla Fitbit, quindi non cambia assolutamente nulla con l'originale ed è veramente una cosa bella a vedersi. Questa è una recensione breve, ma per il prezzo che hanno vi consiglio assolutamente di acquistare questi cinturini perché sono davvero meravigliosi. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando continuate a guardare la serie Teccando. Ciao a tutti!